Un atletto dell'Ampi, due atletti dell'Accademia Bustese, mi raccomando, Ampi e Accademia Bustese, e sono partite! Un atletto dell'Ampi, due atletti dell'Ampi, due atletti dell'Accademia Bustese, la distanza si fa sempre maggiore, e viste così le posizioni sembrano decidite. Mentre c'è un cambiamento tra il secondo e il terzo, Cagli e Busti Barbara, Romarello e Sara prendono il secondo posto, e così si congelano le posizioni tra Veronello e Sara, Romarello e Sara e Busti Barbara.